Margherita Cassano, prima presidente della Corte Suprema di Cassazione, la giornalista Rai Maria Suave, la direttrice di orchestra Carolina Bubbico, Alberto Acito, direttore di Innovit, l'attore Carlo De Ruggeri e l'architetto Gennaro Sannella. Sono i sei vincitori della sesta edizione del premio Mondi Lucani, ideato e organizzato dall'associazione Mondi Lucani ETS, che si terrà il 9 agosto a Matera presso Alvino Relè Mulino Contemporaneo. Un premio che continua a costruire la sua rete di Lucani nel mondo, pronti a condividerne i tre valori fondanti connessione, restituzione, network. Il premio Mondi Lucani si fonda sul valore della restituzione, un concetto che porta valore al territorio, opportunità per i giovani, per le imprese. Quest'anno vogliamo portare questo concetto anche fuori dalla Basilicata, con una tappa del premio Mondi Lucani, sezione radici, nella prestigiosa Columbus, fondazione Columbus di New York, nel mese di ottobre. Sesta edizione del premio Mondi Lucani, un premio a cui tengo particolarmente, nato da una felice intuizione di Maria Andruli e dell'associazione omonima, sono tante le parole che si legano a questo premio, rete, condivisione, la parola che amo di più però è restituzione, che devo dire non è solo dai talenti lucani che sono emigrati verso la loro terra d'origine, ma credo e spero anche viceversa. Grazie. Grazie.